Oh, ci troviamo a Porticciolo di Oghina E qua i pescatori mi dicevano che c'è una barca andata a fondo dove al centro del porto, Sebastiano? Sì, quasi al centro Ma era una barca abbandonata? Era una barca già alla deriva da molto tempo Ed era una di quelle donate alle Ollus Sì, ma guardi che era anche la capetineria e tutto in conoscenza E loro l'hanno messa qua alla deriva portando molto fastidio La barca che c'è stata sono portata a fondo, l'ha spezzata a pezzi E l'unico pezzo che è rimasto è la centro del porto di Oghina Ma quindi c'è un pericolo anche per la sicurezza della navigazione qui a Oghina? Sì, perché è molto in aree, cioè che qua i fondali sono pochi Ci vuole queste imparcazioni e poi alla fine l'ha fatta completa Ma quindi ora quando c'è una barca alla deriva abbandonata a porto di Oghina? Un po' ce ne sono Queste barca donate alle Ollus? Ancora ci sono barca che ancora in automatico sono quasi alla deriva Quando c'è l'ultimo maltempo quella farà sempre la stessa fine Quindi ci sono barca abbandonata nel porto di Oghina Che provano problemi di sicurezza giusto alla navigazione? Ma non solo quella, la sicurezza è tutto Perché una volta che c'è maltempo Le imparcazioni che devono andare a legare nei punti Lo coordinale del portempo Loro si hanno preso i mitonghi Il punto più bello Che che vuole Che vuole le altre persone? Perché le isti. Che vuole le stagione? Che vuole le per l'anno? la bocca solo, già ti vedo il tuo cuore basta con il merone a catania e poi le dà a bambini, non metto l'uscio vietti ma qualcuno dov'è la capitana l'inghierice, ma anche se ti va passare con il tuo mare ma no sicuramente è la cosa più importante l'inghierice, quando è buio che ci va passando aspetti che ti metti i top, che vuoi ti rompiamo tutto oh ma che c'è una stella marina data lì ci sono tantissime stella marina c'era una da su vietti dai a bista no dai dai anche qua c'è una russa vietti da maciovasse da stella guardate 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 vi Quindi c'è furto di scoglio praticamente, a cui ci facciamo questa denuncia di furto di scogli, di grandi scogli. Aspetta, manco di fanno manca la fattura ricca, c'è la fanno la fattura di persone. Ci fanno un contratto, come sapete, avevano per forze veri il contratto, come fanno il contratto e poi lo mettono chi lo vuole, l'importante è che ci sia un contratto, perché è una cosa importante. Sto facendo un'altra parte, non si fa, ma non si fa, ma non c'è un'altra parte, ma non c'è un'altra parte, ma non c'è un'altra parte. Spacchiamento Shapiro Ciao